Ad appena una settimana del suo insediamento il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Vibo Valencia, Sebastiano Caffo, detta la linea individuando le priorità e la direzione in cui intende indirizzare l'ente durante il suo mandato. Io sono qua solo da una settimana come Presidente, anche se facevo parte del Consiglio degli ultimi anni e purtroppo c'è da dire che questa Camera di Commercio è tra quelle che, secondo un decreto del precedente governo, dovrebbe essere accorpata a Camera di Commercio più grandi e io dico che questo è un errore perché è uno degli ultimi baluardi rimasti in questi territori di periferia e che può dare il contributo proprio per un rilancio economico. A tal fine nei prossimi giorni inizieremo gli incontri prima con l'associazione di categoria, poi con i sindacati a seguire anche con altri attori del territorio proprio per cercare tutti insieme di creare un pool, un gruppo di lavoro per andare tutti nella stessa direzione e cercando con ottimismo di risalire la china, di non essere più all'ultimo posto ma di poter dare all'esterno quello che veramente è la forza di questa provincia che è ricca di località turistiche tra le più rinomate non solo in Italia ma a livello internazionale. Se io penso a Tropea o a Capovaticano i tedeschi la conoscono forse più dei milanesi. Quindi noi abbiamo delle potenzialità che potrebbero essere rilanciate in maniera molto importante così come anche i prodotti tipici del territorio che noi come Camera di Commercio sempre sosteniamo e proprio in questi giorni il pecorino del poro che è diventato ormai da qualche mese un prodotto DOP abbiamo avuto la notifica che la Camera di Commercio e l'organismo deputato a fare i controlli sulle aziende e quindi ci siamo attrezzati per fare convenzioni con dei laboratori di analisi per poterli certificare e quindi invito gli imprenditori di questo settore ad attrezzarsi in maniera tale da essere conformi al disciplinare che è disponibile e già operativo in maniera tale da poter sfruttare al meglio questa DOP che si aggiunge alle altre nostre già tipicità del territorio, l'anduia, la cipolla di Tropea e così via.